Al centro congressi della regione Piemonte il vice presidente del consiglio regionale Roberto Placido ha aperto il convegno Il mondo che cambia, le nuove frontiere del lavoro appuntamento annuale rivolto agli studenti medi promosso dal comitato resistenza e costituzione e dal comitato resistenza Colle dell'IS Sicurezza e lavoro assolutamente legate al mondo che cambia e come cambia il lavoro ma più che altro il lavoro che manca specialmente per i giovani il 30% è senza occupazione, flessibilità, precarietà lavoro ripreso nella nostra Costituzione come un diritto dobbiamo fare il possibile perché questo diventi realtà per dare un futuro ai nostri giovani e un futuro non può prescindere dal lavoro Sono poi intervenuti Massimo Cavino, professore di diritto costituzionale e Marco Revelli, docente di scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale Luciano Aburrà, esperto dell'IRES e Massimiliano Quirico, direttore del periodico Sicurezza e lavoro